La notizia è questa. A Salerno il pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona cambia volto con locali più grandi, migliore organizzazione del triage. Costo dei lavori di questo secondo lotto sfiora i 3 milioni di euro. Una notizia importante per i tanti cittadini che dopo l'inaugurazione di sabato potranno fare affidamento ad una struttura fondamentale alla vita. Si parla pur sempre di pronto soccorso. A Cavare di Reni però l'immagine è un'altra. Mentre Salerno ride in Valle Metelliana si piange l'ennesimo tassello di un mosaico che si protrae tra reparti soppressi, medici in pensione e cittadini che cercano di capire. Ieri una manifestazione che ha bloccato e fatto parlare, ma che avrebbe dovuto richiamare molta più gente di quella che c'era. Si parlava di ospedale, di diritto alla salute, alla vita. E sì, perché tutti sanno che spostarsi in condizioni di assoluta emergenza da Cava dei Tirreni verso Nocere Inferiore o Salerno ha del drammatico, perché in tal unicasi è un vero e proprio azzardo se aggiungiamo l'emergenza di un amico o parente che sta rischiando la vita. Mettiamola così. Cava dei Tirreni è popolata da 60.000 persone, è il secondo comune della provincia, e quelli che hanno sfilato sono i delegati in pectore di un'intera comunità. Nel frattempo però continueremo a riempire le pagine di cronaca scrivendo dei zero posti letto dell'ospedale di Cava dei Tirreni, dell'organizzazione e gestione universitaria e non più sanitaria del Santa Maria in Coronata dell'Olmo, della politica che promette, che non mantiene, tutto questo per ottenere una risposta sincera e reale ad una domanda apparentemente semplice. Cava dei Tirreni ha perso il presidio sanitario con annesso punto di primo soccorso?